L'alluminio è ovunque, è nei nostri telefoni, nelle nostre auto, persino nelle nostre lattine di bibite. Questo metallo versatile è leggero ma resistente, ma pochi si rendono conto dell'incredibile viaggio che compie l'alluminio, da una roccia rossastra a un metallo splendente. Questa trasformazione è una testimonianza dell'ingegno umano, ma presenta anche sfide ambientali che dobbiamo affrontare. Esploriamo l'affascinante mondo della produzione di alluminio. Il viaggio inizia con la bauxite, un minerale che si trova nelle regioni tropicali e subtropicali. L'estrazione della bauxite è il primo passo di un processo complesso. Questo processo prevede diverse fasi, ognuna delle quali richiede notevoli quantità di energia e risorse. Comprendere questo processo è fondamentale per apprezzare i prodotti in alluminio che utilizziamo ogni giorno. L'estrazione della bauxite avviene spesso in aree ambientalmente sensibili. Sono necessari scavi su larga scala per estrarre il minerale dalla terra. Questo processo può danneggiare gli ecosistemi e avere un impatto sulle comunità locali. Le pratiche minerarie sostenibili sono essenziali per ridurre al minimo questi impatti. Una volta estratta, la bauxite viene trasportata agli impianti di lavorazione. Qui viene sottoposta a una serie di fasi di frantumazione e lavaggio. Questi passaggi rimuovono le impurità e preparano la bauxite per la fase successiva, la raffinazione. Il processo di raffinazione è ciò che trasforma la bauxite grezza in una forma utilizzabile per la produzione di alluminio. Il processo Bayer è il metodo più comune per raffinare la bauxite. Questo processo utilizza una soluzione calda di idrossido di sodio per sciogliere il contenuto di allumina nella bauxite. L'allumina o ossido di alluminio è l'ingrediente cruciale per la produzione di alluminio metallico. Tuttavia, il processo Bayer produce anche un sottoprodotto significativo, il fango rosso. Questo prodotto di scarto altamente alcalino rappresenta una grande sfida ambientale. Il suo smaltimento richiede un'attenta gestione per prevenire la contaminazione del suolo e dell'acqua. Fanghi rossi. Una sfida ambientale. Il fango rosso è un residuo denso di colore rosso marrone che rimane dalla raffinazione della bauxite. Contiene una miscela di ossidi metallici, silice e idrossido di sodio non reagito. Lo stoccaggio e la gestione sicura di questi rifiuti caustici rappresentano una delle maggiori preoccupazioni per l'industria dell'alluminio. Scienziati e ingegneri sono costantemente alla ricerca di modi per utilizzare il fango rosso. Alcune potenziali applicazioni includono il suo utilizzo nei materiali da costruzione, il recupero di metalli preziosi e persino come catalizzatore in alcuni processi industriali. trovare soluzioni sostenibili per il fango rosso è fondamentale per la redditività a lungo termine della produzione di alluminio. La trasformazione elettrica dell'alluminio. La fase finale della produzione di alluminio è l'elettrolisi. Questo processo utilizza una potente corrente elettrica per separare l'allumina in alluminio puro e ossigeno. Il processo è ad alta intensità energetica, il che evidenzia l'importanza delle fonti di energia rinnovabile per una produzione di alluminio sostenibile. Paesi come la Cina e l'Australia dominano le fasi di produzione e raffinazione dell'alluminio. L'elevato fabbisogno energetico rende l'accesso all'energia a prezzi accessibili un fattore chiave nella produzione di alluminio. Nel percorso verso un futuro più sostenibile, l'industria dell'alluminio si trova ad affrontare la sfida di ridurre il proprio impatto ambientale, soddisfacendo al contempo la crescente domanda globale di questo metallo versatile.